io mi devo mettere le scarpe non sono vestito tanto però andiamo a far schiantare sto drone ush che frescolino che bello però oddio fa freddino eh allora non l'ho mai fatto volare in lapponia vediamo un po' cannot take off come mai oh no devo calibrare la bussolina vediamo se adesso va buongiorno buongiorno ok adesso si sta registrando la copro scorrono si si ok ma solo che inserda ok ma solo che inserda se si si però se sale piuttosto figo è la prima volta che lo faccio volare durante una nevicata magari vedi io è così vicino allo chalet voi avete visto gli scogliattoli invece c'erano degli scogliattoli prima che giravano attorno alle nostre finestre c'è un segnale un po' debole e vola un po' storto o sbaglio? leggermente inclinato è vero che vola un po' storto? si sta volando un po' storto forse il freddo lo fa sbarellare però è figo farlo volare tra gli alberi guarda eh vuoi fare una roba se qualcun altro si portava i droni si facciava la gara facciamo un altro Chuck sta registrando? si ok ti fai l'arrivo che ti si ferma sul naso devo spiare gli altri nella fase comincio a sentirlo un po' il freddo considerando che non sono vestito pesante per niente ma così almeno ho testato che il Mavic Air vola bene anche sotto zero e durante una nevicata extreme test c'è anche un bel vento freddo gelato si vola proprio da dio adesso lo farei andare verso il lago ghiacciato tanto di batteria ce n'è ancora parecchia il posto per fare la colazione lo sto inquadrando adesso è di là perfetto quindi più o meno abbiamo capito dov'è si parecchio si lo faccio tornare che bello volare tra gli alberi c'ho una paura folle di farlo schiantare e non lo recuperiamo più si perché è bianco se lo perdiamo nella neve è un casino vieni piccolino a terra anche qua c'è un po' meno neve che bravo non ho fatto neanche una fotografia non ho fatto neanche un po' meno non ho fatto neanche un po' meno